Buongiorno, ben svegliati, le 7 del mattino di domenica 20 ottobre, benvenuti alla rassegna stampa di Omnibus News. La rassegna stampa che questa mattina cominciamo con un giornale che di solito non vi mostro per primo, e cioè proprio il giornale. Ma come sapete ieri c'è stata a Roma questa grande manifestazione, quella del centrodestra, centrodestra di nuovo unito, e il giornale che fra l'altro è di proprietà del fratello di Silvio Berlusconi, ovviamente titola a tutta pagina, così come fanno anche la maggior parte dei giornali, diciamo così, che si riferiscono a quell'area politica. Perché invece poi andremo a vedere i quotidiani principali, Corriere, Stampa e Repubblica, preferiscono un'altra impostazione e puntare la loro attenzione su un altro tema. Ma ci arriviamo fra un attimo. Intanto, vi dicevo, questo è il giornale, eccolo qua, il centrodestra c'è, i toni sono decisamente apologetici, insomma, il centrodestra c'è, finalmente riunito, avviso di sfratto a Conte, senza nessuna esitazione, qua si parla di 200.000 persone in piazza a Roma, anche se probabilmente sapete che per la questura erano decisamente di meno, ma non importa. Berlusconi che dice, mandiamo a casa i comunisti, Giorgia Meloni, Muri per i migranti e Salvini insieme vinciamo. Non è un caso, diciamo, anche la disposizione delle frasi e delle dichiarazioni messa così com'è. E poi si parla appunto di governo in crisi, con il premier che dice, fuori chi non fa squadra. Vi voglio far notare, perché sarà una curiosa costante, la fotografia che è stata scelta dal giornale per illustrare la manifestazione di ieri. Attacco a tre punte, così c'è scritto, e sono rappresentati appunto Berlusconi, Meloni e Salvini ieri sul palco di piazza San Giovanni a Roma. Quindi non si vede la piazza. Il fondo del direttore Alessandro Sallusti poi esalta, diciamo così, la ritrovata unità. Dice come, dice, un giro lungo un anno e mezzo per tornare al punto di partenza, quel 4 marzo del 2018, quando il centrodestra Unito vinse le elezioni. Poi continua dicendo che non è stato facile per i tre leader ricomporre il rapporto di fiducia e conclude dicendo che questa è una piazza benedetta per chi ama la libertà. Chi se ne frega se tra le 200.000 persone presenti c'era anche qualche decina di simpatizzanti di Casa Pound, gente sicuramente meno fascista di Beppe Grillo che vuole togliere il diritto di voto agli anziani o del premier Conte che vuole incarcere 8 milioni di italiani in contenzioso con il fisco. Questo scrive Sallusti. E allora intanto però noi adesso sci andiamo a vedere, eccole qua, le altre prime pagine. Per esempio il Corriere della Sera. Vi dicevo, partiamo anche qui dalla fotografia, questa costante anche qui. Non si vede la piazza ma si vedono i tre leader insieme con Salvini che preferisce sottolineare il Corriere questo aspetto, si rilancia e dice dobbiamo studiare per come arrivare al governo ma l'apertura per l'appunto invece è stata dedicata alla crisi o meglio a questa presa d'atto e questa posizione molto dura di Conte che dà l'altolà a Renzi e Di Maio con questa frase chi non fa squadra è fuori dal governo, dalla Leopolda Boschi invece attacca il Partito Democratico e parla del Partito delle Tasse e poi vedete anche qui si parla del centrodestra in piazza mentre di spalle si accenna con questo bel racconto di Gian Antonio Stella nella casa dei Corbezzoli alla festa invece a Firenze di Italia Viva la Leopolda che oggi peraltro come sapete chiude i propri lavori. A centropagina una notizia di carattere internazionale, la Brexit sapete che si aspettava fino a ieri sera che il Premier mandasse la lettera in cui doveva per forza chiedere la proroga all'Europa e lo ha fatto e quindi vedremo adesso che cosa succede. Torniamo alle questioni del governo, anche la Repubblica parla di troppi nemici e di un conte rischia tutto che fa appello alla coesione sempre con questa frase ripetuta chi non fa squadra è fuori, la manovra non si tocca ma ci avvisa Repubblica domani in realtà ci sarà per l'appunto questo vertice e poi un gruppo di responsabili fra virgolette intorno al Premier che teme Renzi perché dall'Aeropolda arrivano questi attacchi al Partito Democratico anche la Repubblica sceglie la foto dei tre leader sul palco con questa scritta di spalle orgoglio italiano ne scrive Gad Lerner che fra l'altro è stato fischiato anche qua la piazza dei finti moderati e infine prima della pubblicità vi voglio segnalare anche la stampa anche qui l'apertura dedicata alle frasi del Premier chi critica lascia il governo la foto invece in questo caso la stampa è forse praticamente l'unico giornale che mette ma un dettaglio in realtà della piazza con crocifissi e bandiere vedete dopodiché è assolutamente da segnalare i due editoriali uno quello del direttore Maurizio Molinari dalla Siria un domino di conflitti è molto interessante quello che racconta Maurizio Molinari sulla intenzione di creare una sorta di nato dei paesi arabi e questo sarebbe il motivo per cui gli Stati Uniti se ne sono andati e l'altro invece dedicato alle vicende di casa nostra tre fuochi bersagliano il Premier ne parla Marcello Sorgi che dice nessuno farà cadere ora il governo l'intenzione però è quella di logorarlo almeno fino a dopo l'approvazione della manovra 7.6 è il momento come sapete di fermarsi per dare spazio alla pubblicità allora sono le 7.12 vi faccio vedere ancora un paio di prime pagine vi dicevo soprattutto i quotidiani che afferiscono all'area del centro-destra hanno preferito ovviamente come era logico titolare sulla manifestazione di piazza San Giovanni ma nessuno di loro ha messo in prima pagina per l'appunto un'immagine della piazza ma dei tre leader sul palco ora a essere maliziosi qualcuno potrebbe dire che è stato fatto perché poi la piazza non era così piena come in realtà ci si aspettava che fosse certo anche vedere i tre leader insieme ha una sua valenza politica quindi ognuno poi giudichi come vuole questa comunque intanto è la prima pagina di libro eccola qua questo è il titolo sconfessato dalla piazza e dai suoi soci Conte Arrenditi quindi vedete che in realtà è un titolo quello di libro che tiene entrambi i temi il premier sulla manovra ha fatto innervosire Grillini e Renziani eppure la sua amica Europa per tenere unito il governo Giuseppi così come lo aveva chiamato Trump ricorderete perderà la faccia ma presenterà il conto a tutti noi e poi eccola qua vedete la foto della manifestazione in questo caso ne parla Antonio Socci che parla di quella che lui definisce la battaglia della vita salvare il ceto medio dalla follia comunista e infine giusto per amore di cronaca vi mostro anche eccola qua la verità da piazza San Giovanni a via Giuseppi resa dei conti per Conte e questi sono per l'appunto i tre leader ieri a piazza San Giovanni allora andiamo a vedere subito eccolo qua come ci racconta la giornata nella sua cronaca Francesco Verderami sul Corriere della Sera che parla di slogan antichi e competition ma il capo leghista sa che serve tempo per studiare scritto fra virgolette e poi ci racconta di questa gara mediatica tra i leader sul palco ma in realtà è ancora tutto da costruire gara mediatica perché come saprà chi ha seguito la manifestazione in realtà c'è stato un rubarsi un po' la scena gli uni con gli altri Giorgia Meloni che alla fine che era anche un po' insomma contrariata il fatto che fosse il palco della Lega poi invece è stata bravissima a prendersi la scena lo scrive anche Francesco Verderami dice il Cavaliere non si accorge di essere distante dal microfono e Meloni invece lesta a trovare un rimedio per non assoggettarsi al ruolo di ospite ma quando me freghi ha sussurrato mentre Salvini guadagnava il podio e oscurava con un tricolore il logo della Lega insomma quindi anche questo è successo ma in realtà per tornare a Palazzo Chigi dalla porta principale scrive Francesco Verderami a Salvini tornerà certo utile la reunion con Berlusconi e Meloni un ritorno al passato di cui diceva di non sentire nostalgia ma non basterebbe e ieri ha fatto capire di aver capito perché le scorciatoie rischiano di essere vicoli ciechi questo perché ci racconta poi ancora Verderami ha fatto parlare appunto anche i governatori Fontana e Zaia di Veneto e Lombardia che sono quelli che più hanno dato prova invece di saper collaborare anche con gli amministratori del centro-sinistra per conquistare un'olimpiade osteggiata dal governo e insomma bisogna lavorare ci sono poi anche le voci contrarie le voci contrarie sono una proprio nettamente contraria quella di Renato Brunetta che infatti in piazza non c'è andato e dice io non mi arrendo c'era solo la destra l'altra voce diciamo critica ma che però in piazza c'era era quella di quella di Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia era meglio dice togliere Alberto da Giussano però poi conclude in realtà con tutto il tricolore che si vedeva è stato tutto sommato oscurato la stampa la stampa che parla di un centro-destra che si ricompatta a Roma e dà l'assalto a Conte pronti a tornare ma io ve lo voglio far vedere perché viene presentata anche eccola qua una intervista a per l'appunto il governatore del Veneto Zaia i cittadini dice Zaia premieranno la nostra coerenza ma soprattutto eccolo qua a proposito successo della Lega Matteo unico leader gli altri erano ospiti quindi comunque sulla leadership ancora evidentemente e soprattutto su chi detta la linea si discute dice ancora Zaia il PD non riempie più le piazze perché non ha consenso stanno con i 5 stelle per disperazione altra pagina che vi voglio mostrare sulla manifestazione invece la prendo dal messaggero perché c'è stato anche l'elemento diciamo così della richiesta di dimissioni della sindaca di Roma Raggi nel mirino della piazza e lei dice dimissioni io vado avanti ma attenzione anche il PD l'ha scaricata così ci dice il messaggero e sarebbe per l'appunto una notizia perché invece si sussurra diciamo così di un patto per tenere Virginia Raggi al suo posto in cambio dell'accordo in Emilia-Romagna fra un attimo lo vedremo ma vi segnalo anche l'intervista che sul messaggero viene fatta a Giorgia Meloni che dice proprio a proposito del Campidoglio non corro Matteo leader della coalizione però non lo faccia pesare siamo un partito a doppia cifra qui si riferisce ovviamente a Fratelli d'Italia dice adesso peschiamo nell'elettorato 5 stelle e in quello della sinistra insomma massima massima trasversalità ci fermiamo un attimo con la manifestazione e andiamo invece a vedere sempre dal Corriere della Sera cosa si racconta di quello che è successo intanto a Firenze alla Leopolda scintille con il Partito Democratico è il Partito delle Tasse quello che dice Maria Elena Boschi ma in realtà poi Renzi si smarca Bonifazzi la corregge parla di un'affermazione sbagliata insomma si cerca di tenere un po' giù tutta questa polemica e poi mi interessava farvi vedere il sondaggio di Nando Pagnoncelli che dice per il 63% degli italiani sottinteso Italia Viva potrebbe lasciare l'esecutivo insomma è stato chiesto per l'appunto agli italiani di rispondere a questa domanda Matteo Renzi ha lasciato il PD creando Italia Viva a sua parere questa scelta per il governo Conte rappresenta prevalentemente uno stimolo per contribuire con nuove idee lo dice il 12% un problema perché Renzi potrebbe presto scegliere di andarsene per proprio calcolo 63% non sa lo dice il 25% e allora andiamoci anche a vedere invece sul fatto quotidiano a proposito di quello che vi dicevo dell'accordo sindaca di Roma Emilia Romagna in realtà il fatto quotidiano ci dice ancora non c'è questa intesa però anzi non decolla l'intesa tra i giallorosa il nodo Bonacini resta ancora lì mentre per quello che riguarda la manovra ora è Conte dice il fatto quotidiano che scarica i 5 stelle dicendo appunto chi non ci sta è fuori vi faccio vedere ancora eccola qua invece no non era questa la pagina scusate eccola questa qua dalla stampa quello che sembra essere comunque un aggiustamento in corso d'opera del ministro dell'economia Gualtieri che apre in qualche modo e dice solo piccole modifiche alla manovra possibili compromessi sulle multe e negozianti per il rifiuto del POS e delle partite IVA insomma non tutto è ancora deciso non tutto è ancora stabilito avete visto ci sarà questo vertice domani due pagine giusto per capire qualche cosa di quello che succede all'estero molto interessante la prendo sempre dalla stampa Giordano Stabile che scrive Siria i paesi europei pronti a riprendersi i combattenti dell'Isis è una notizia importante questa perché sono i cosiddetti foreign fighters quelli che erano andati a combattere per l'Isis in Siria potrebbero ritornare in Belgio Francia e Germania i primi rimpatriati saranno appunto 300 foreign fighter francesi e non è certo una notizia da poco e poi ancora vi voglio mostrare eccola qua perché ieri se ne era parlato molta ha fatto molta impressione questa vicenda di questo bimbo caduto dalle scale in una scuola di Milano c'è un approfondimento sempre sul Corriere della Sera chi deve solvegliare gli alunni alle elementari e beh in realtà ci sono pochissime persone a disposizione c'è un solo collaboratore scolastico ogni 60 studenti vecchi e su più piani meno del 50% degli edifici è sicuro invece adesso è sicuro che noi andiamo a vederci il meteo e poi ci rivediamo se volete per il telegiornale le 7.30 Sì buongiorno questa la situazione delle piogge previste per la prima parte della giornata di oggi continua questo schema diciamo in cui il sud e gran parte del centro sono al di fuori da questa circolazione perturbata mentre il nord a vario titolo in varia maniera ne è coinvolto allora le piogge quelle più intense Liguria di Ponente e poi questa zona alpina e prealpina che prende soprattutto Piemonte anche la Val d'Aosta in realtà sul nord est piogge ma deboli nella seconda parte della giornata come vedete le zone interessate rimangono queste però le piogge si intensificano poi vanno sommate anche a quelle della mattina quindi nel complesso la giornata comincia a diventare diciamo significativa dal punto di vista del maltempo Alta Toscana Emilia Liguria ancora una volta questa zona in giallo con precipitazioni che possono essere anche molto forti e al centro e al sud se c'è qualche nuvola se no insomma c'è poco anche di quelle vediamo la giornata di lunedì vedete come si intensifica il maltempo su questa zona alpina dal Piemonte si passa anche verso la Lombardia si passa proprio sul confine sulle Alpi occidentali ancora la Toscana e ancora una volta il grigio di qualche nuvola sul resto del centro se leviamo Toscana vedete che c'è ancora delle piogge se no c'è qualche nuvola ma insomma tempo diciamo assolutamente tranquillo e poi vediamo la giornata di martedì in cui c'è una una specie di cambiamento nel senso che il maltempo tende ad attenuarsi anche se sulle zone di nord-ovest ancora è ben presente e qualche debole pioggia prende anche Corsica e Sardegna si attenua ma guardate subito a ovest di nuovo un'altra zona di maltempo molto forte quindi bisognerà vedere che strada che strada prende e eventualmente quanto tempo ci mette a spostarsi perché poi il gioco è quello veniamo alle temperature minime di questa mattina più alte al sud ovviamente la zona calda è questa guardate anche il colore del mare è ancora piuttosto elevato però insomma abbiamo visto ne abbiamo parlato ieri non ci sono diminuzioni delle temperature i venti sono meridionali sono caldi quindi le temperature sono abbastanza alte ma i venti si intensificano e quindi lo stato dei mari quello di oggi comincia a essere piuttosto significativo da molto mossa localmente agitato il Tirreno il Mar Ligure gli altri mossi o molto mossi ancora tranquilli il celeste basso Adriatico basso Tirreno e Ionio se volete ci vediamo subito prima delle 7 e 55 adesso c'è un poco di pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale a più tardi grazie a tutti